Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con l'opening di uno Structure Deck abbastanza particolare. Diciamo che per i veterani questa roba sarà una cosa già vista e rivista, però per molti, soprattutto i novizi, sarà una cosa nuova e incredibile. Credibile no, però è una roba figa, ovvero lo Structure Deck Saga del Drago Bianco. Diciamo che tempo addietro era uscita una mezza notizia che diceva che sarebbe uscito uno Structure Deck Blue Eyes, però pensavamo fosse qualcosa di nuovo, non la reprint di questo. A questo punto Konami mi aspetto la reprint di Drago Bianco e Chibulo Alternativo perché è l'unica cazzo di carta che costa ancora un patrimonio e mezzo. Grazie. Detto questo vi ricordo come sempre che se volete acquistare questo prodotto trovate il link del mio sponsor qua sotto in descrizione, Magic Corner. Passateci, nel caso se comprate qualcosa taggatemi su Instagram, solite cose. Vi voglio bene se lo fate, grazie. Io non prendo un euro. Questo è il mio pagamento. Inoltre, se volete liberarti delle vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon, sempre qua sotto in descrizione trovate il link del mio Instagram. Scrivetemi, mandatemi delle foto e se c'è qualcosa di interessante compro tutto. Detto questo io passerei all'unboxing. Bene ragazzi, ho appena perso la clip dove aprivo effettivamente lo Structure, però diciamo che fondamentalmente è uguale a quello vecchio. L'unica cosa che cambia è che questo è in seconda e questo è in seconda, nel senso perché questo è uscito da qua. Comunque, rispetto a quello vecchio, sì, questo è in seconda edizione. Detto questo, andiamo a vederci le carte. Ovviamente non andremo a leggere gli effetti di nessuna roba stia qua dentro perché comunque è roba vecchia che avete già visto e stravisto. Eppure io di queste carte ne ho già una quinta lata. Ma andiamo a vedere. Abbiamo questo terribile drago bianco occhi blu, drago argento occhi azzuri che è incredibile e diciamo che ci sta, eh. Poi abbiamo fanciulla con gli occhi blu, che questa tirava il drago bianco se l'attaccavi mi sembra. Si spostava in difesa, annullava l'attacco e tirava un drago bianco. Poi abbiamo reliquario del drago, ottima carta questa. Anche questa perfetta. Ogni tanto controllo perché sapete, la Konami ogni tanto stampa a caso. Diciamo che questo set l'ha fatto bene. Poi abbiamo drago coniglio, drago di alexandrite, drago avido, quindi una carrellata di mossi normali che non servono a niente e a nessuno. Poi abbiamo cavalcatrice dei venditi di tempesta, drago bianco chi blu alternativo incredibile, ma la Konami se poteva dare una svegliata e metterlo qua dentro, eh. Poi abbiamo Kaiser Glitter, praticamente tutte le carte di Kaiba, o draghi a caso, come drago hieratico di Tef Nuit. Abbiamo poi il drago miraggio, drago divino apple crap, la pietra bianca della leggenda che questa mi ricordo quando sbustai per la prima volta la super. È stato un momento bellissimo. Poi abbiamo Kaibaman, il profeta della creazione, Kaiser Cavalluccio Marino, poi l'onesto, angelo splendente, che questi diciamo sono più utili per got che per il mazzo, poi pianto d'argento, soffio esplosivo di distruzione, distruzione schiacciante, il batto di totali del drago gigante, poi baratto, anche questa secondo me ottima carta. Poi cartella consonanza, dono dell'elefante bianco, uno per uno, mostro resuscitato, tattiche dragoniche, scambio di anime, spade rivelatrici, no ragazzi, questo è lo structure deck di Kaiba, fondamentalmente, con dei supporti blue eyes. Poi castello delle anime drago, catena demoniaca, kunai con catena, condensatore di danno, richiamo del posseduto, che poi all'epoca mi sembra anche come Entrap ci stava solo, forse Ogre, o me sa, è anche più vecchio delle Entrap, quindi dovrebbe esserci solo Veiler e Max C, che poi ovviamente non stanno qua dentro, e pubblicità random, che nel vecchio set non c'erano. Infatti qua si sponsorizza Tattical Master e diciamo che guardando il libretto qua, da questi set qua a Tattical Master, ne passa un po', eh, non vorrei dire. La cosa di cui sono contento è che la Konami ha realizzato tutto come fosse il set vecchio, con la sponsorizzazione dei set che uscivano all'epoca. E secondo me è tanta roba, nel senso. Alla fine ragazzi, cosa posso dire di questo prodotto? È un prodotto, nel senso, a parte il playmat che, nel senso, bello, il drago da una parte, terribile il drago dall'altra, ma ok, erano altri tempi ragazzi. Diciamo che il grafico era appena stato assunto e sapevo utilizzare solo Paint. Non credo neanche Photoshop, ma dettagli. Allora, vi stavo dicendo, alla fine non mi va di criticare questo prodotto perché non ha senso. È un prodotto vecchio, è un prodotto di 9 anni fa e quindi a livello competitivo non serve assolutamente a niente. Secondo me, se siete dei nostalgici e volete sbustare qualcosa che vi ricordo al passato, questo potrebbe essere una buona alternativa. Se siete fan di Kaiba o dei Blue Eyes, questo ovviamente rimane sempre un ottimo prodotto, ma soprattutto, secondo me, è un bel prodotto da tenere sigillato. Alla fine, quanto lo pagate? 10 euro? Ve lo mettete lì sopra, è carino, siete fan dei Blue Eyes, lo pagate poco perché comunque è una seconda edizione e non una prima e state a posto. Adesso non so quanto sta in prima edizione, però sicuramente lo pagate almeno 30-35 euro. Buttare dei soldi solo per vedere scritto prima edizione qua sopra non ha senso. Boh, lo considero un prodotto promosso perché tanto non ve posso dire, ragazzi, il prodotto fa schifo, non c'è niente di competitivo dentro. Wow, grande, avete scoperto l'America, è un prodotto di 9 anni fa dove l'entrappa più forte era Max C. e Weiler e qua dentro non c'erano. Beh, tutto il resto è in linea con i tempi. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ovviamente di aver seguito il video. Mi ha fatto piacere insieme a voi ripercorrere il passato perché, diciamo, è un prodotto di 9 anni fa. Io all'epoca avevo 16 anni, adesso ne ho 25. E niente, mi ha fatto un po' tornare indietro a quando truffavo i bambini in spiaggia. Eh, bei tempi. E niente, prima che piango, vi saluto, un bacione e noi ci rivediamo mercoledì con il podcast. Ciao a tutti!